Giallo come il sole, rosso come il cuore. La triste storia di Agostino, di Bartolomei, si riassume in questa frase. Era il 30 maggio del 1984 e dalla rovente curva sud spunta quello striscione. Lo stadio è colmo, Roma si è fermata, racchiusa e compressa in quella finale di Coppa dei Campioni contro i Liverpool. C'è soprattutto quel capitano coi capelli nerissimi e lo sguardo imperturbabile. Lui era così, romano fin dalla culla, romanista dai primi vagiti. Eppure non mostra emozioni, forse dietro quell'apparente durezza si nascondeva tutto l'amore per quei colori. La Roma perderà nella notte più buia della sua storia.